Chiaramente avvertiamo ancora di più la responsabilità per tutti i ruoli, adesso parlo ancora da sindaco e quindi da amministratore del nostro territorio, poi aspetteremo la formalizzazione per quanto riguarda il parco, però io dico che veramente noi oggi dobbiamo, abbiamo il dovere di dare dei messaggi positivi ai nostri giovani, abbiamo il dovere di fare in modo che i nostri territori sempre di più diano delle opportunità ai ragazzi che oggi magari si affacciano al mondo del lavoro, ai ragazzi che oggi escono dal mondo della scuola e cercare di creare quelle condizioni per far sì che ci sia uno sviluppo sui nostri territori, da questo punto di vista io ritengo che il parco può essere una grande possibilità perché è l'unico ente che rappresenta un territorio più vasto, un territorio vasto che mette insieme il Cilento, gli Alburni e il Vallo di Viano e dobbiamo puntare molto anche come parco a quella che ad esempio penso alla mobilità perché per poter dare possibilità ai nostri giovani dobbiamo fare in modo che i nostri territori possano essere raggiunti in modo più celere e più facile possibile e creando anche occupazione, creando anche tutte quelle condizioni per far sì che i giovani restino nel nostro territorio, io penso che la sfida della politica debba essere esattamente questa Lo ha detto lei, non c'è ancora l'ufficialità però ormai si sa, Tommaso Pellegrino è il prossimo presidente del parco, il governatore De Luca ha dato il suo assenso quindi manca la formalità soltanto della Camera dei Deputati Lei avverte tutta questa aspettativa che si sta creando anche nel Vallo di Viano intorno al suo nome, c'è tanta aspettativa proprio perché potrebbe essere un motivo di rilancio per tutto questo territorio, l'avverte questa aspettativa? Avverto una grande responsabilità, innanzitutto l'affetto che in questi giorni tanti mi hanno dimostrato e anche la condivisione rispetto a questo sul mio nome da una parte mi riempie di grande felicità ma dall'altra parte mi carica chiaramente di responsabilità ma non sono certamente quelle che mi spaventano Anzi, io penso anche l'atto di fiducia, io non avevo dubbi sul presidente De Luca ma la sua firma è un atto di fiducia oltre che di stima nei miei confronti così come c'è stata parte del governo e chiaramente questa responsabilità la dobbiamo trasformare adesso insieme ai sindaci del territorio, insieme alle associazioni, insieme alle scuole del territorio dobbiamo trasformarla in energia positiva Io penso che la vera grande sfida è quella di cambiare verso al nostro parco, cioè farlo diventare non e farlo percepire dalla gente non come un vingolo così come accade fino a oggi ma farlo diventare una vera opportunità, un'opportunità soprattutto per i giovani perché io l'azione amministrativa stasano l'ho incendrata moltissimo proprio sui giovani creando le condizioni per rendere più vivibili un paese, io penso che dobbiamo rilanciare la stessa sfida nel parco e mi fa piacere che a prescindere dal sottoscritto che oggi chi guida un'ende così importante, il parco più grande d'Europa, cioè il parco del Cilento Valodiano Alburni sia una persona del nostro territorio, oggi c'è bisogno di persone che conoscono i territori, c'è bisogno di persone che possono interagire in modo più facile con chi amministra i sindaci che sono il primo punto di riferimento per i cittadini, ai quali si rivolgono i cittadini per le varie problematiche agli amministratori e tutti coloro che soprattutto amano il territorio grazie